I trabocchi potranno essere ampliati, lo stabilisce la Corte Costituzionale che ieri ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale relativa al recupero e alla valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese. La Corte Costituzionale stabilisce da un lato che il ricorso sia tendenzialmente generico, dall'altro che la norma non sia affatto in contrasto con la disciplina di tutela dettata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Insomma, la legge impugnata dal Governo dopo l'approvazione del Consiglio regionale è stata riconosciuta legittima, salvi i ristoranti sulle macchine da pesca che ora potranno anche ampliare la passerella. L'assessore regionale Aldemanio Marittimo e al Paesaggio, Nicola Campitelli, parla di sentenza storica. La legge è stata pensata, ideata e votata in soli 30 giorni, ha dichiarato Campitelli. La conferma da parte della Corte Costituzionale consolida il percorso di salvaguardia dei trabocchi, ha concluso l'assessore. La battaglia legale, intrapresa da Roma contro la regione Abruzzo, era stata avviata dal primo governo Conte, a trazione Lega 5 Stelle.